Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo nuovo video. Oggi parliamo dei Candomblé del Brasile. È un culto, è un culto afro-brasiliano che è stato importato dagli schiavi che venivano dalle regioni di Nigeria e Benin principalmente, perché questo culto si basa sulla religione degli Europa, che è tipica della Nigeria. È tutto fuorché facile parlare dei Candomblé, perché ci sono moltissimi dettagli e dettagli anche che noi principalmente non disponiamo rispetto a esattamente come si articola la vita dei Candomblé. Sappiamo alcune cose, però. Sappiamo che è il luogo di culto principale, sappiamo innanzitutto che è una religione di base animistica, dove ci sono moltissime, moltissime divinità, ma sappiamo anche che per evitare la censura i Candomblé hanno deciso a un certo punto di cercare di modificare un po' alcuni tratti e alcune divinità per farle andare più in accordo con la religione cattolica, che era ovviamente una religione presente in Brasile, perché il Brasile era all'epoca una conquista portoghese. Quindi sappiamo dei Candomblé che vivono questa forma di sincretismo spirituale, che però si riapporte sempre di più alla matrice africana originaria, che è quello di essere un culto animistico, che crede nella reincarnazione, crede un po' meno negli concetti di bene e male, e è basato su molte divinità, che sono note come Horatius. E le divinità non sono le nostre divinità totalmente perfette e prive di difetti, ma sono divinità che hanno pregi e virtù, difetti, vizi, ma anche buone qualità. E c'è soprattutto in questo, diciamo, nei Candomblé in generale, ma nei Candomblé c'è una forma terapeutica che si usa come fase di iniziazione, ma che si usa anche e soprattutto con persone che vengono iniziate, Candomblé, per tollerare e per imparare a moderare alcuni loro aspetti della personalità e soprattutto per imparare a tollerare cose come l'ansia, il nervosismo, l'aggressività. Questa fase di iniziazione, che è tipica, che tipicamente si svolge attraverso la danza, che conduce a uno stato di trance, in questa fase di iniziazione ogni membro della religione Candomblé, viene identificato con un particolare orisha. Questo è il motivo per cui esistono tra i 16 e i 20 orisha e questo è il motivo per cui c'è un momento in questa fase iniziale, soprattutto tra lo storico di trance, dove l'uomo, la persona, incomincia identificare molti aspetti della sua personalità con la possessione di un orisha. Il termine possessione per noi è un termine negativo connotato da cose mistiche che non capiamo bene e che fa riferimento alla possessione del diavolo, che nella religione cattolica è una delle cose più terribili che possono succedere all'essere umano, ma la possessione di un orisha è in realtà qualcosa di estremamente positivo, perché interpretato all'interno del contesto dei Candomblé, favorisce la convivenza di una persona con qualità che sono un po' estreme, esagerate, come per esempio un'eccessiva ansia, un'eccessivo nervosismo, un'eccessiva aggressività. E non è solo una questione di convivenza, ma anche di un'operazione. È come se noi dicessimo, quando sono particolarmente ansioso, questa è la possessione del mio orisha, che viene per permi di affrontare questa situazione in un certo modo. Questa interpretazione non è soltanto cognitiva, perché cognitivamente questo avrebbe un valore più ridotto, ma è soprattutto emotiva. Ed è questo quello che ha un valore estremamente terapeutico. Questo, le danze, i rituali di questa religione, sono anche una componente molto molto importante. Quindi, il luogo di culto è il cosiddetto Terreros, e lì c'è un sacerdote, Paide Santo, o una sacerdotessa, Maede Santo, e lì praticamente avviene non solo rituali colidiani, che possono venire, ma avviene anche il processo di iniziazione. Le divinità sono moltissime, vi ho detto, le orisha sono moltissime, e vanno da 16 a 20 soltanto le principali. Ma ve ne vogliamo citare qualcuna. Per esempio, quella di Oxala, che è la luce solare, molte volte paragonato a Dio, nostro Dio, che ci dà pace e armonia. Yevanya, che è la dea del mare, che è questa figura materna che si rifà a Mamibata, che è una dea africana. Nana, che è la madre terra, il simbolo della fertilità, rappresenta la donna della pazienza, e aiuta nel rigenerare e nel rinascere. E anche Oxum, che è bella amante del lusso, e a cui ci si rivolge per le questioni sentimentali. Ora, vi ho parlato di Nana, che è la dea a cui ci si rivolge per una rigenerazione e o rinascita. E questo è un elemento molto molto importante, perché l'appartenenza alla religione dei Candomblé, proprio sembra, secondo le ricerche che alcuni antropologi hanno fatto, sembra proprio favorire una specie di rinascita all'interno di quella stessa comunità di membri afro-brasiliari. E noi sappiamo che il Brasile può offrire molte opportunità, ma è anche un paese che rimane emergente, dove c'è una soglia di povertà molto bassa e in cui gli afro-brasiliani sono ancora molto impattati, perché gli uomini bianchi di discendenza portoghese o in generale europea o internazionale sono generalmente persone che hanno un social standing, uno statuto economico migliore. Mentre gli afro-brasiliani sono spesso rilegati in favelas e hanno ruoli sociali che sono molto più ridotti. E quindi questa identificazione con un orisha sembra essere di molto molto aiuto ai credenti, ai partecipanti di questa religione, anche per aiutarli a sopportare diciamo lo stato più di povertà economico e i conseguenti problemi psicologici che questo può causare. ragazzi, detto questo, però voglio lasciare a voi la parola. Siete mai stati in Brasile? Diteci la vostra esperienza qui sotto, commentate, commentate, commentate e fateci sapere, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Non dimenticatevi di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale e anche attivare la campanella così da poter ricevere aggiornamenti. ci vediamo alla prossima, ciao! ciao